Due anni di Covid, la guerra in Ucraina, il caro bollette, il caro energia, l'aumento dell'inflazione stanno mettendo a dura prova migliaia di imprese, famiglie e contribuenti. È necessario che il governo Meloni metta mano a una rottamazione, a una pace fiscale con la possibilità di rateizzare a lungo termine tutti i debiti che si sono accumulati in questo periodo, altrimenti veramente si creerà una crisi sociale.